Sgominata dalla Guardia di Finanze un'associazione a delinquere di improvvisati mediatori creditizi al vertice dell'organizzazione un imprenditore giarrese. A Ciliale la pista ciclabile divide in due la città tra favorevoli e contrari. Il sondaggio lanciato sul web segna la parità quasi assoluta. Anche a Giarre sarà presto istituita la banca del tempo che servirà a valorizzare competenze e servizi dei cittadini. Bentrovati un saluto dalla redazione di Reporter. Tra gli altri argomenti parleremo anche di un incontro avvenuto tra un gruppo di venditori ambulanti e l'amministrazione comunale accese è stata sollecitata all'istituzione dei mercatini rionali. Rimanendo ad A Ciliale poi parleremo anche dei vincoli urbanistici scaduti che mettono a rischio le aree scolastiche del territorio secondo l'ex consigliere provinciale accese Antonio Tomacchio. Sabato prossimo invece verrà inaugurato il centro prelevi sangue dell'Avis a Ciliale che sarà ospitato nei locali del Polifunzionale delle Terme. La sede invece continuerà ad essere in Corso Savoia. Ma partiamo dalla cronaca come sentito dai titoli perché la Guardia di Finanza di Catania ha arrestato sette uomini tra cui un imprenditore giarrese e un ex eurodeputato accusati di aver messo su un'organizzazione per agevolare illegalmente crediti alle imprese. In difficoltà sentiamo. E' un giarrese Domenico Marcuccio di 66 anni la mente della banda che tra la Sicilia e la Toscana si arrogava il compito di fare da tramite tra aziende in difficoltà e banche per agevolare i prestiti. Mediatore creditizio, questo è il termine tecnico che identifica chi svolge questo genere di lavoro. Peccato che per farlo bisogna essere iscritti a un apposito registro della Banca d'Italia unica a poter autorizzare questa attività. E né Marcuccio né alcuno dei suoi sodali lo era. La società a lungo andare è stata così intercettata dalla Guardia di Finanza che dopo mesi di indagine ha arrestato Marcuccio e altri sette suoi complici tutti con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'abusiva mediazione creditizia. Il sistema era semplice. Tramito un complice Marcuccio contattava le aziende in difficoltà e spacciandosi come funzionario della Fondazione Montepaschi di Siena prendeva accordi utilizzando come sede quella rispettabile dell'hotel Sheraton di Firenze. Gli accordi servivano a fornire alle aziende il prestito desiderato previo pagamento di una commissione che si attestava tra il 4 e il 6% del credito richiesto. Commissione la cui metà andava pagata subito. Poi, tramite complici inseriti, loro sì davvero nelle strutture della Montepaschi di Siena si spingeva per agevolare i prestiti richiesti. E il sistema funzionava. Le provvigioni avevano portato a movimenti di denaro nei conti correnti di Marcuccio per qualcosa come 4 milioni e 200 mila euro proventi che venivano in parte redistribuite agli altri complici ciascuno in proporzione al ruolo che rivestiva. L'operazione denominata Broker Abuse è scattata dopo la segnalazione di strani movimenti di assegni sui conti correnti di Marcuccio verificatisi tra il 2009 e il 2012 e coinvolge anche altre sette persone i catanesi Davide Zuppelli, Giuseppe Quattrocchi e Angelo Salvatore Porto l'impiegato di Banca Dranita Placido Bruno i toscani Giampiero Meschino all'epoca dei fatti funzionari di MPS e Andrea Conti che faceva da intermediario tra Marcuccio e l'ex eurodeputato PDL Paolo Bortolozzi che aveva il compito di ammorbidire con la propria influenza i dirigenti delle banche. Ma questo non è l'unico guaio che Marcuccio ha con la Guardia di Finanza nel 2013 infatti la sua azienda ha evaso il fisco per 6 milioni di euro grazie a un giro di fatture false evasione che ha avuto come conseguenza il sequestro di beni e attività finanziarie a lui intestate per un totale di 1 milione e 600 mila euro. Parliamo ancora di cronaca nera preso a Picanello uno dei rapinatori della farmacia di Acicastello avvenuta nello scorso gennaio. In manette è finito il 19enne Massimiliano Privitera in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Etneo. Il giovane insieme a un complice con il volto travisato ha fatto irruzione nel gennaio scorso in una farmacia di Acicastello dove sotto la minaccia di armi ha rapinato la somma di 350 euro custodita all'interno delle casse. A fiume freddo di Sicilia invece sempre i carabinieri hanno arrestato un pezzo da 90, Salvatore Brunetto, elemento di spicco dell'omonimo clan mafioso. L'uomo in atto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è stato sorpreso da una pattuglia dell'arma in via Calvario mentre conversava con altri pregiudicati del luogo. L'arrestato in attesa del giudizio per direttissima è stato relegato ai domiciliari. A Trecastagni infine sono stati arrestati tre tunisini per furto. I militari sono intervenuti in via Papa Giovanni XXIII e hanno sorpreso il terzetto intento a trafugare da un caseggiato adibito a magazzino attrezzature per uso zootecnico. Celebrati questa mattina a Belpasso i funerali di Veronica Valenti, la ragazza trentenne uccisa domenica scorsa con 60 coltellate dall'ex fidanzato senegalese. In concomitanza con i funerali così tra le 11.10 e le 11.11 di questa mattina diverse radio con in testa Radio Etnespresso hanno proposto un minuto di silenzio per ricordare Veronica e per ribadire il no più assoluto al femminicidio. Le altre radio coinvolte sono state Radio Fantastica, Radio Smile e Radio Cuore. Cambiamo decisamente argomento, l'amministrazione comunale accese sta lavorando alla predisposizione di un regolamento per i mercatini rionali, un'iniziativa sollecitata da alcuni venditori ambulanti. Sentiamo. All'orizzonte da Cireale la realizzazione dei mercatini rionali. Il progetto è stato infatti sollecitato da un gruppo di venditori ambulanti che hanno avuto modo di evidenziare la tematica nel corso di un incontro avuto con l'assessore alla polizia urbana Rori Pietro Paola. Gli ambulanti hanno quindi espresso il loro disagio nel dover montare e smontare ogni giorno l'area concessa come solo pubblico dall'ente, con l'obbligo e l'obbiettivo primario di tenere puliti i vari siti in questione. Le parti hanno concordato sul fatto che l'unica soluzione potrebbe essere l'istituzione dei mercatini rionali, progetto sul quale peraltro gli uffici comunali stanno lavorando per valutarne la fattibilità nei luoghi maggiormente idonei. Tutto perciò sarà in ordine, nel massimo decoro, con pari diritti e doveri per coloro che ne faranno richiesta di assegnazione. Il regolamento, una volta esitato dall'Aggiunta Municipale, dovrà poi passare al vaglio del Consiglio Comunale. L'intento comunque è quello di accelerare al massimo le procedure così da poter garantire ai venditori dei vari prodotti migliori condizioni, garantendo nel contempo pure l'acquirente. Argomento caldo negli ultimi mesi ad Aciriale è stato quello relativo alla pista ciclabile, contrari e favorevoli. Settimana scorsa, vi ricorderete, abbiamo lanciato un sondaggio sul web, in particolare sul social network di Facebook e sondaggio che si è concluso senza vincitori né vinti. Sentiamo. Pista ciclabile sì, pista ciclabile no. L'argomento ad Aciriale divide in due parti uguali la città, tra favorevoli e contrari ad una delle iniziative dell'amministrazione Barbagallo più discusse dall'inizio del mandato. Lanciato sul gruppo di Facebook Aciriale Critica, partner di Edna Espresso Channel che lo ha ripreso nella sua pagina ufficiale di TG Reporter, il sondaggio in una settimana di vita ha raccolto centinaia e centinaia di preferenze e commenti, ma alla fine si è concluso senza vincitori né vinti. 50% esatto di preferenze per i sì, 50% per i no. La differenza di voti è davvero minima ed irrisoria, neanche una decina, anche se i commenti degli utenti accesi e non sono per lo più critici. L'orientamento generale, infatti, sarebbe anche favorevole al concetto di pista ciclabile e cittadina. Quello che non piace semmai è il modo in cui è stata realizzata la corsia accese dedicata ai bikers. Troppo stretta e pericolosa, secondo molti. Non si cura e non ha norma per altri. C'è poi chi punta il dito anche sulla deformazione dell'asfalto che creerebbe pericoli per gli stessi ciclisti, chi invece segnala la presenza di troppi incroci lungo il circuito, con conseguenti pericoli per tutti, automobilisti e pedoni compresi. Certo, la conformazione urbanistica della città, la viabilità ed anche la bassa attitudine all'utilizzo della bici da parte degli accesi e di conseguenza una certa estraneità alla pista ciclabile, giocano un ruolo importante nell'etichettare l'iniziativa, apprezzata però nel complesso come idea. Piace, insomma, agli accesi affiancare a Cireale, almeno dal punto di vista della mobilità urbana ed ecosostenibile, alle grandi città del nord Italia o meglio ancora del nord Europa. E proprio in tal senso c'è anche chi consiglia di installare dei semaforini per ciclisti, proprio come in Austria. I favorevoli alla pista ciclabile però, come detto, sono tanti. Al sondaggio ha partecipato quasi per intero tutta la giunta Barbagallo e hanno espresso il loro sì gli assessori Fichiera, Danna e Ardita, accompagnati dai consiglieri Leotta, Messina e Seminara, passando anche dalla poetessa Maria Rita Celestino e da molti componenti del comitato Cambiamoci Reale. Contrari, invece, l'ex assessore Calì, il presidente della consulta giovanile Michele Greco e il presidente dell'Associazione Nuova Galatea Alessandro Cocco, ma anche, udite il primo cittadino Roberto Barbagallo. Semplice errore di mouse o provocazione sindacale? Battute o battiture errate a parte, la soluzione migliore per favorire una sana mobilità urbana, rispettare l'ambiente e chissà non scatenare le ire di commercianti, pedoni ed automobilisti la propone ironicamente tale Wolf e Zecchiele. I nostalgici e i romantici ne sarebbero contentissimi. Ad Aciriale sono iniziati i lavori per l'eliminazione delle disconnessioni stradali. Come annunciato, sono iniziati stamattina i lavori di riparazione delle strade danneggiate dalle ultime intense precipitazioni. Gli interventi di bitumazione a caldo sono partiti dalla via provinciale per Santa Maria Ammalati e procederanno dando priorità alle strade particolarmente dissestate. I tecnici hanno effettuato pure un sopralluogo in via Carrozze, in zona San Martino, dove a causa della pioggia di qualche giorno fa è saltata la pavimentazione. Cercheremo di inserire la riparazione di questa strada tra i primi interventi in programma, annuncia l'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita. Ieri vi abbiamo parlato dell'allarme del PD, oggi torna sull'argomento l'ex consigliere provinciale Antonio Tomarchio che sottolinea come attorno a pressi scolastici e aree che dovrebbero essere a servizio della popolazione scolastica si agitano vecchi e nuovi spettri grazie ai vincoli urbanistici scaduti. Al danno che negli anni si è perpetrato, afferma Tomarchio, si somma l'ennesima beffa che nel corso di tutto il precedente quinquennio ho avuto modo di denunciare pubblicamente invocando l'intervento dell'ente provinciale del consiglio comunale di Acireale che nel mese di aprile del 2012 trattò l'argomento scuole superiori. Ne Castiglione, allora presidente della provincia, insistette sul ripristino dei vincoli del piano regolatore generale accese scaduti nel 2008 per pianificare la costruzione di un nuovo plesso né il consiglio comunale si pose questo obiettivo. Erano rimasti tutti incantati dalla mancata promessa di acquisto del collegio Pennisi. Adesso, continua Tomarchio, urge sgomberare il campo dalle falsità e lavorare per la pianificazione di un plesso nuovo che inglobi gli studenti ubicati in strutture di privati che costano oltre un milione di euro di affitto l'anno, il collegio Pennisi ad esempio 700 mila euro, il fanciullo 400 mila euro e il santonoceto 200 mila. La città tutta è chiamata a mobilitarsi per scongiurare una speculazione da cementificazione selvaggia a scapito di servizi. L'amministrazione Barbagallo e soprattutto il consiglio comunale, conclude Antonio Tomarchio, sono chiamati ad esprimere un'idea amministrativa e una pianificazione del territorio. Il cerimoniale della città di Aceriale ha messo a punto il programma delle manifestazioni in occasione della solennità di tutti i santi, ma anche della commemorazione dei defunti e della giornata dell'unità nazionale e festa delle forze armate. Si comincia sabato 1 novembre alle 15.45 nel piazzale antistante la chiesa del cimitero di Aceriale, il sindaco Roberto Barbagallo prenderà parte alla celebrazione eucaristica in suffragio di tutti i defunti presieduta dal vescovo Antonino Raspanti. Poi alle 18 lo stesso sindaco omaggerà con un cesto floreale l'immagine di Maria Santissima, regina di tutti i santi, al passaggio dinanzi al palazzo di città. Adesso ci fermiamo, linea alla pubblicità, ma torniamo subito con la seconda parte di Reporter. Il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAEM, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, per info 095 60 48 83. Topolinia Infanzia. Accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini. Alla Topolinia c'è il nido primavera e la scuola materna. Esistono tre modi per insegnare, col timore, con l'ambizione, con l'amore. Noi rinunciamo ai primi due. La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto, aule luminose, salone conferenze, teatro, palestra, laboratori pomeridiani. Siamo aperti dalle 7.30 alle 19, oltre che alle esigenze della famiglia e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita. Topolinia Infanzia, via Arcangelo Raffaele 2, Aci Reale. Telefono 095 763 1645. Le Monde Petit. Petit Catania. Da 0 a 12 anni, abbigliamento in total look per cerimonia o per essere dolcemente elegante sempre. Angolo Outlet, per risparmiare e vestire sempre con eleganza. Cosa si mangia oggi? È una domanda che non mi pongo più, da quando ho scoperto carne e natura. Basta solo andarci e scegliere tra le centinaia di proposte preparate giornalmente. Solo prodotti nostrani e di qualità. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola accese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Carne e natura. Macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga 8284 Aci Reale. Telefono 095 764 84 48. Da 35 anni al servizio della buona tavola. Alle Autoscuole Santa Lucia iniziano i corsi CQC per il rinnovo e il conseguimento merci e viaggiatori. Se vuoi prendere la patente alle Autoscuole Santa Lucia, San Filippo e Il Gabbiano, è a tua disposizione un simulatore professionale con il quale imparare a guidare è veramente facile. Autoscuola Santa Lucia, via Vittorio Emanuele 199 Aci Catena. Autoscuola San Filippo, via Nizzeti 113 Aci San Filippo. Autoscuola Il Gabbiano, via Paolo Vasta 227 Aci Reale. Se ti iscrivi adesso, buono sconto del 20%. Imparare a guidare è facile. Di nuovo in diretta per la seconda parte di Reporter che apriamo parlando di Giarre dove presto sarà istituita la banca del tempo che si basa appunto sullo scambio gratuito di tempo ovviamente. Sentiamo. Anche a Giarre a breve sarà istituita la banca del tempo, una particolare associazione di volontariato che si basa sullo scambio gratuito di tempo dove ciascun socio mette a disposizione qualche ora per offrire ad un altro socio una certa competenza. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha infatti approvato la delibera numero 111 per autorizzare la stipula di un protocollo di intesa tra il comune e l'associazione di promozione sociale Meridiana Time, banca del tempo di fiume freddo, che ha dato la propria disponibilità per allestire e gestire un giorno alla settimana e a titolo gratuito uno sportello informativo della banca del tempo nei locali del Palazzo delle Culture di Piazza Maccherione. Nel mese di maggio mi era stata sottoposta questa proposta da parte del Direttivo Nazionale della Banca del Tempo, affermato l'assessore alle pari opportunità Piera Bonaccorsi. Attraverso questo tipo di associazioni i privati possono scambiarsi dei servizi, ad esempio due ore di babysitting e in cambio di due ore di lavoro all'uncinetto. Si tratta di un'opportunità mai esistita a Giarre, ma che è già un'esperienza consolidata in varie città del mondo. Desidatari della banca del tempo possono essere privati cittadini che possono valorizzare le proprie competenze e attitudini, scambiare anche oggetti inutilizzati che giacciono nelle cantine, ma anche piccoli produttori che potrebbero alimentare un mercato locale a filiera corta. A guadagnarci con questo tipo di iniziative tutta la comunità che vede crescere la solidarietà e la coesione tra i suoi cittadini. Domani intanto, venerdì 31 ottobre alle 16.30, il sindaco di Aciriale Roberto Barbagallo e il vice sindaco Nando Ardita faranno visita a Palazzo Fiorini, antica dimora nobiliare costruita tra fine 800 e inizi 900 nel centro storico della città. Per l'occasione il palazzo di via San Carlo sarà aperto alla stampa e alla città. Sempre domani, poi alle 12, a Palazzo del Turismo ad Aciriale, sarà presentata l'iniziativa di solidarietà Un Vecchio Giocattolo, Un Nuovo Sorriso. La raccolta di giocattoli usati è organizzata dalla Quinta e dall'Ottava Commissione Consigliare Permanente in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Etneo, la Croce Rossa Italiana, il gruppo Volontari di Protezione Civile, Conf Commercio e Conf Esercenti e patrocinata dalla Comune di Aciriale. Sabato prossimo invece sarà inaugurato il nuovo centro di raccolta sangue dell'Avis Aciriale che sarà ospitato nei locali del Polifunzionale delle Terme. La sede invece rimarrà in Corso Savoia. Vediamo. Sabato prossimo, primo novembre, alle 11, per l'Avis, Associazione Volontari Italiani Sangue di Aciriale, sarà un giorno da ricordare in quanto nei locali del Polifunzionale delle Terme i volontari avvisini potranno contare su un centro prelievi moderno e funzionale che dispone dei requisiti minimi previsti dalle normative sanitarie nazionali ed europee. Addio quindi, ma solamente per quanto riguarda i prelievi, ai locali di Corso Savoia, in quanto la sede del Sodalizio continuerà ad essere in tale luogo. Grazie quindi alla disponibilità trovata nella persona del Commissario delle Terme, Ingegnere Luigi Bosco, è stato possibile accantonare timori e preoccupazioni, vista l'esigenza di disporre di nuovi locali, così da poter continuare quel percorso che lo scorso anno ha portato l'Avis di Aciriale ad essere il primo centro della provincia dopo Catania, con 1.600 sacche di sangue raccolte. Oltre al Vescovo di Aciriale, Monsignor Antonino Raspandi, sarà quindi proprio pure l'Ingegnere Bosco che inaugurerà i nuovi locali, che già domenica vedranno poi in mattinata una giornata di raccolta. L'area a disposizione dell'Avis si compone di una sala prelievi con sei poltrone, due sale per le visite, una per l'accettazione, due bagni di cui uno idoneo all'accesso dei disabili, un deposito destinato ai prodotti sanitari e infine una sala ristoro. Dopo tanti sacrifici così viene ripagato l'impegno del Presidente Angela Belfiore e dei suoi vali di collaboratori, molte dei quali giovani, cosa che lascia ben sperare per il futuro. Domani sera intanto alle 18 nella sala Cristoforo Cosentini della Biblioteca Zelantea di Aciriale il dottor Giuseppe Contarino, il Presidente dell'Accademia, il dottor Ivan Lobello, Vice Presidente Nazionale di Confindustria, presenteranno il volume di Nino Milazzo dal titolo L'Uomo dei Tramonti, chiamava la politica. Un congresso mondiale della pedagogia clinica si è tenuto nei giorni scorsi a Firenze e tra i relatori c'era pure il Presidente regionale dell'ANPEC, il dottor Walter Siragusa. Vediamo com'è andato. Si è svolto nei giorni scorsi il congresso mondiale per il quarantennale della pedagogia clinica. Tenutosi presso il prestigioso Palazzo dei Congressi di Piazzado a Firenze, l'evento dal titolo Il divenire della pedagogia clinica è stato organizzato dall'ANPEC, l'Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici, e ha visto la partecipazione di relatori provenienti da 16 paesi. Diviso in tre sessioni, il congresso rientra tra le iniziative di Aspettando Expo Milano 2015. Tra i partecipanti è anche il dottor Walter Siragusa, originario di Santa Venerina e operante con il proprio studio ad Acicatena, Siragusa è direttore regionale ANPEC. Nel corso del congresso Siragusa è intervenuto parlando dell'importanza educativa e formativa della pedagogia clinica nel contesto sportivo e dei legami relazionali ed affettivi tra genitori e figli, lanciando un nuovo progetto a carattere nazionale da lui stesso ideato. Progetto che pone l'accento su nuove tecniche e metodi per valorizzare il progetto di l'aspetto educativo e ridurre gli atti di violenza che oggi purtroppo si registrano sui campi di gioco del settore calcistico giovanile. A tal proposito Siragusa ha dichiarato è necessario formare figure preparate per migliorare gli aspetti educativi e formativi dell'attività sportiva, riducendo gli atti di violenza che si registrano nei terreni di gioco, con l'auspicio di poter vedere nel gioco soltanto un sano divertimento e una sana competizione che aiuti a migliorare la relazione e gli aspetti affettivi e sociali. Siragusa ha già inviato una proposta progettuale alla FIGC per avviare insieme un percorso per la valorizzazione educativa nello sport. Sono certo, ha continuato il dottore, che il Presidente nazionale della Federazione coglierà benevolmente la proposta già gradita al Presidente regionale della FIGC Sicilia. Il progetto intanto ha ricevuto l'interesse dell'ente di formazione ISPAR, che si è detto pronto a collaborare, anche se adesso dipenderà da Siragusa, in qualità di Presidente nazionale dell'Associazione ANES, Associazione Nazionale Educatori Sportivi, individuare gli enti di formazione con cui collaborare. Siamo allo sport adesso, parliamo di calcio, andiamo a conoscere le decisioni del giudice sportivo che in eccellenza nel girone B ha squalificato per un turno Raneri della Cireale, che così non prenderà parte alla trasferta di Modica e poi Sinatra del Paternò Panatteri del Siracusa e Cardia dell'Igea Virtus. In promozione invece squalificato fino al 30 novembre il tecnico dell'ACI San Filippo Armando Algozzino, fino al 5 l'allenatore dell'ACI Sant'Antonio Lucio Tosto, squalificato invece fino al 20 dicembre prossimo il tecnico del Real ACI Nino Marchetti e fino al 25 novembre l'allenatore della Ionica Filoramo. Per due turni invece è stato squalificato proprio il campo della Ionica per contegno offensivo e minaccioso da parte di propri sostenitori nei confronti di ufficiali di gara e di organi federali, ma anche per invasione di campo a fine partita con un tifoso che ha preso per un braccio il direttore di gara strattonandolo. Ionica ACI Sant'Antonio e Ionica Sporting Taormina così verranno disputate in campo neutro. Due turni invece per Coriano dell'ACI San Filippo, un turno a Rundo e Nocera del San Gregorio e Murabito dell'ACI Sant'Antonio. In seconda categoria infine brutte notizie per l'atletico ACI San Filippo che domenica ha esordito nel torneo pareggiando in casa 1-1 contro il Città di Pedara. Il giudice sportivo infatti ha inflitto lo 0-3 in favore dei pedaresi perché i catenoti hanno sbagliato nell'effettuare una sostituzione. Al quindicesimo della ripresa infatti Regalbuto, un classe 92, è entrato in campo al posto di Anastasi, un classe 96, violando così la regola che prevede invece l'utilizzo di almeno un classe 96 in campo. Infine lo Sporting Mascaruccia, rimanendo in seconda categoria, ha inoltrato preannuncio di reclamo in merito alla gara di domenica scorsa persa 2-1 in casa contro lo Zafferana Etnea, risultato così che al momento risulta congelato. Siamo in chiusura, andiamo a conoscere adesso le previsioni in meteo per la giornata di domani. Previsto cielo sereno, venti prevalentemente deboli, mari poco mossi, temperature che saranno comprese tra i 15 e i 19 gradi. E' tutto per oggi, grazie per averci seguito, vi ricordo la nostra pagina Facebook Etne Espresso Channel trattino TG Reporter dove è possibile inoltrare le proprie segnalazioni sul territorio ma anche rivedere l'edizione giornaliera del nostro telegiornale che torna invece in diretta TV domani alle 13.40. Arrivederci.